Puoi parlare di questo film, guarda questo film, è una cosa orribile, ci viene fuori una recensione incazzata, allucinante, la madonna, è peggio di After? Ma come fa a essere peggio di After? Oh, ma è peggio di After. Capisco che se sei qui è perché il film è brutto, ci sta, sicuramente non sarà un gran film se lo dite così in tanti, ma peggio di After non è fisicamente, materialmente possibile. Beh, se non ci credi vai a guardarlo. Certo che lo guardo, lo guardo adesso. Allora, che mi dici? Allora io penso che maledico il giorno in cui ti ho conosciuto e che c'hai la mamma putta! Visualog, allora prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che questa domenica 14 aprile alle 16.30 ci vediamo alla libreria Mondadori di Arona sul Corso per la presentazione di Cosa Guardo, il mio nuovo libro edito da Salani che è una guida su film e serie da guardare in base all'umore del momento. farò la presentazione, poi ci sarà il film a copie, se avete già la vostra copia potete portarla, altrimenti potete acquistarla naturalmente, direttamente lì in libreria. Quindi ci possiamo fare anche due chiacchiere e ci vediamo lì. E poi vi voglio ricordare che esiste una piattaforma di streaming tutta quanta italiana dedicata ai film horror che si chiama HODTV dove trovate un sacco di film interessanti che magari era difficile reperire in Italia fino a poco tempo fa. Alcuni sono in lingua originale, altri sono doppiati, dipende ovviamente dal film. e ci sono anche un sacco di film horror marcissimi ma sempre divertenti, girati veramente con due soldi. Insomma trovate veramente di tutto, è una piattaforma specializzata in ambito horror e se volete provarla potete fare la prova gratuita da 30 giorni ma se usate il mio codice VICTOR scritto tutto minuscolo la prova diventa di 60 giorni e potete anche abbonarvi cliccando sul link in descrizione oppure scanalizzando il QR code che trovate qui in sull'impressione. Se cliccate direttamente sul link o scanalizzate il QR code non sapete neanche mettere il codice perché vi apre già la pagina per fare i 60 giorni di prova e ogni film nel player ha un più se cliccate quell'icona potete invitare altre persone che sono abbonate alla piattaforma e fare un watch party e non c'è limite di persone che potete invitare magari vi guardate il film con amici mentre siete su Discord e può essere una cosa interessante per cui se vi interessa sapete cosa fare ma veniamo a noi perché negli ultimi giorni mi avete subissato in maniera enorme di richieste tutte uguali Victor fai la recensione di questo film io non sapevo cosa fosse sono andato a informarmi e ho avuto paura ho avuto paura perché ho capito che ci troviamo di fronte all'ennesima storia d'amore malata che piace tanto alle ragazzine io sono sopravvissuto a Twilight sono sopravvissuto a 50 sfumatori di grigio sono sopravvissuto perfino ad After 365 giorni che è una saga prodotta da Netflix polacca che è veramente un abisso non l'ho ancora trattato sul canale ma arriva anche quella solo che è qualcosa di talmente mostruoso che devo essere preparato psicologicamente però francamente non credevo che mi sarei trovato di fronte prima o poi a qualcosa che avrebbe rappresentato manco il fondo del barile perché qui il fondo non c'è più si è disintegrato e siamo ad uno scavo di 3 metri sotto terra il barile ormai è solo appoggiato sul terreno mi riferisco ad un film del 2024 per la regia di Alessandro Genovesi ed è fabbricante di lacrime film che trovate su Netflix perché è un originale della piattaforma che udite udite è primo in molti paesi dove è disponibile cioè questa roba ha varcato gli italici confini e si sta diffondendo in tutto il mondo e a quanto pare la stanno anche guardando perché io ve lo giuro qui ci troviamo di fronte ad un meteorite della dimensione di quello che è il tinto i dinosauri ma completamente coperto di croste di merda è come ricevere un colpo di mazza sul pomo d'Adamo ma con una mazza che in realtà è un gigantesco stronzo seccato io non pensavo che mi sarei mai trovato di fronte ad una granata di stronzi a frammentazione come questa piuttosto che riguardare questo film io vi giuro mi siederei a parli e mosse su una stufa ma siccome non voglio decedere anzitempo andiamo con ordine perché ragazzi qui probabilmente ho trovato uno dei film peggiori che io abbiamo visto in vita mia ma non è una di quelle frasi che si dicono a effetto no 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 io non avevo mai tirato giù cinque pagine di appunti per una recensione incazzata guardando un film che poi io mi sono approcciato dicendo vabbè magari è la gente che esagera magari è l'entusiasmo del momento e non è brutto come dicono però io tengo le note del telefono aperte così ogni tanto segno il problema è che e non sto scherzando a tre minuti e quaranta di film avevo già una cosa come i dodici note e io non ci stavo credendo ero lì con la svetta e continuavo a dirle ma non è possibile questa cosa io non ho mai visto un inizio così problematico sotto tutti i cazzo di punti di vista voi non avete idea di che cosa sia fabbricante di lacrime poi non il fabbricante di lacrime fabbricante di lacrime come se fosse chiamato operaio o metalmeccanico fabbricante di lacrime generico neanche l'articolo determinativo si merita a sto cazzo di film e la cosa incredibile è che il titolo è profetico perché non si riferisce evidentemente al fabbricante di lacrime figura che viene spesso citata nel film ma al film stesso che di lacrime me ne ha fatte piangere a profusione ma adesso vi spiego cos'è che non va in questo film sono tante cose quindi allacciate le cinture perché stiamo per adentrarci in un viaggio tortuoso all'inferno farò spoiler dall'inizio alla fine non penso che la cosa sia un problema però io ve lo dico se non gradite spoiler del film prima di averlo visto chiudete questo video ed eventualmente tornate in un secondo momento e io ho già il fiatone perché mi sto incazzando come non mi ho mai incazzato in vita mia innanzitutto tenete bene a mente una cosa perché dovete tenerla a mente Caterina Ferioli e l'altro attore protagonista di cui vi parlerò dopo non vi dico ancora il nome lascio la suspense hanno più di 20 anni ciascuno e non è che sembrino più piccoli dimostrano esattamente l'età che hanno per cui nonostante i personaggi sembrino più grandi nella finzione del film hanno 16 anni questa informazione incameratela qui nel cervello in una in una speciale stanza del vostro povero cervello che verrà martoriato dalle informazioni che sto per darvi perché è importantissima perché ci sono delle scene più avanti che tenendo a mente che questi hanno 16 anni sono fottutamente inquietanti il film inizia con Nika la nostra protagonista bambina in macchina con i genitori che vede sul ciglio della strada un lupo e la madre dice oh che bello e Nika risponde no a me fa paura e la madre spara una delle peggiori perle di saggezza che si siano mai sentite il lupo è cattivo nelle fiabe solo perché qualcuno ha voluto così certo certo allora facciamo che la prossima volta che due persone incontrano un lupo in una strada di montagna possono comportarsi così Giambaldo Giambaldo fermo fermo c'è un lupo c'è un lupo Giambaldo cosa facciamo Filippaldo ma i lupi non sono cattivi sono cattivi nelle fiabe solo perché qualcuno ha voluto così e adesso te lo dimostro lupo vieni qui lupo bu 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 Giambaldo Giambaldo ma che cazzo fai Giambaldo è un lupo ma smettila Filippaldo eccolo che oddio 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 Giambaldo oddio Filippaldo Filippaldo che cazzo fai mi ha strappato un ginocchio chiama subito qualcuno oddio poco dopo questa perla di saggezza inusitata fanno un incidente e Nika rimane improvvisamente orfana e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava perché questo film è tratto da un romanzo omonimo fabbricante di lacrime che io non ho letto quindi non ho idea di come sia però francamente non ho capito bene dove è ambientato nel senso non so se è una cosa solo del film nel caso chi ha letto il libro può dirmelo ma siamo forse negli Stati Uniti d'America ma parlano tutti italiano con l'audio in presa diretta cioè sono attori italiani non doppiati che parlano in italiano ma hanno nomi tipo Billy Phelps Lionel e io non capivo perché dicevo ma perché parlano tutti in italiano sono palesemente italiani ma i luoghi hanno nomi anglofoni si vestono come se andassero in un liceo americano io ero distrutto ma questo nei primi minuti del film perché Nika arriva in questo orfanotrofio e abbiamo la versione di Miss Peregrine ordinata da Temu questa tizia con gli occhiali da sole che l'accoglie in maniera freddissima è un misto tra Miss Peregrine e la trincia bue e dice una cosa del tipo qui ci vogliono ordine rispetto e obbedienza parole che non farà che ripetere per tutto il cazzo di film e appena Nika arriva all'orfanotrofio subito le portano via l'unica cosa che le rimaneva dei genitori cioè la collanina con il ciondo la forma di farfalla perché a quanto pare i bambini in quell'orfanotrofio non possono tenere con sé oggetti personali e io quando ho visto questa cosa ho pensato ah madonna ma che è una prigione non è un orfanotrofio porca miseria e non c'è un cazzo da ridere perché poi sapremo che in quell'orfanotrofio accadono cose a dir poco terribili non ci dicono però subito che cosa ha passato Nika in questo orfanotrofio perché incontra questa ragazzina Adeline questa ragazzina albina e abbiamo uno dei dialoghi più surreali del film Adeline ma sei una bambina tanto buona gentile graziosa ma perché nessuno ti vuole adottare Miss Margaret dice che perché sono troppo chiara lo so che parlare di razzismo alla rovescia non ha alcun senso perché razzismo non ha una direzione è razzismo e basta ma quando con queste stanche orecchie ho sentito questo dialogo ho pensato cazzo questo è razzismo alla rovescia cioè questo film mi confonde mi fa anche pensare cazzate e vi sto descrivendo i primi 3 minuti e 40 tra l'altro fin da subito possiamo notare un problema trascurabilissimo ovvero il fatto che questo film ha un sonoro che fa cacare cioè io non capivo un cazzo di quello che dicevano ho dovuto non sto scherzando attivare i sottotitoli perché è un biashikio continuo questo è quello che io sentivo mentre guardavo il film che cazzo stanno dicendo non so perché spesso nei prodotti italiani succeda questa cosa ma vi posso assicurare che un sonoro così pessimo in un film comunque con un certo budget pensato per una larga diffusione e prodotto da una piattaforma di streaming come Netflix è uno dei peggiori da questo punto di vista ce ne sarebbero anche altri di punto di vista ma da questo punto di vista è seriamente qualcosa di imbarazzante la voce narrante di Nika che ci tormenterà da qui all'inizio del film di tanto in tanto ci dice che lei adora una fiaba che si chiama il fabbricante di lacrime dove in questo luogo dove nessuno poteva piangere tutti si rivolgevano a questo artigiano il fabbricante di lacrime l'unico in grado di produrre lacrime di cristallo da infilare negli occhi della gente per permettere loro di piangere e di provare dolore se estrapoliamo questa figura da questo finto contesto fiabesco viene fuori il personaggio perfetto per un cazzo di film horror sui demoni e sui fantasmi cattivi un po' come quel film orribile mi pare si chiamasse al canale delle tenebre sulla fatina dei denti ecco una cosa di questo tipo non sfigurerebbe nel twisted childhood universe quello con Winnie the Pueblo the nine eccetera ecco metteteci anche il fabbricante di lacrime che tanto per fare paura questo film ne fa di paura per i motivi sbagliati certo però la fa e oltretutto è bellissimo perché la bambina che interpreta Adeline è doppiata quando è bambina poco dopo quella scena ma proprio 30 secondi dopo con un abile montaggio orribile vediamo che Nika da bambina è cresciuta cioè tipo c'è questo questo momento in cui la macchina era presa del G21 e lei è cresciuta una roba che avevo visto anche in Twilight una cosa del genere c'era il momento in cui lei si struggeva perché Edward se n'era andato e si vedeva tipo la macchina presa che le G21 e passavano le stagioni una roba di quel livello e parla con Adeline ma ovviamente è interpretata in questa scena dall'attrice che la interpreta da grande tra virgolette perché ricordo che dovrebbero avere circa 16 anni e mi fa morire perché da bambina è doppiata da grande no da grande è un'attrice che usa la sua voce ora capisco che magari la bambina non era brava a recitare oppure semplicemente non è un'attrice italiana e quindi l'hanno doppiata però tu non puoi darmi una sequenza in cui la bambina è palesemente doppiata ed è l'unica a essere doppiata e 10 secondi dopo cresce ed è un'attrice non doppiata c'è uno stacco da un punto di vista proprio tecnico ma anche a sentirlo che è semplicemente terrificante porca vacca io non ci stavo credendo ho pensato ma che cazzo stanno facendo oltretutto Nika sta per essere adottata da questa coppia di genitori che si chiamano Norman e Anna e io sono ancora qui che cerco di capire dove minchia si ambienti questo film e poi vanno dalla Miss Peregrine di Temu che si chiama in realtà Miss Margaret la quale per l'appunto redarguisce ancora una volta Nika dicendo mi raccomando obbedienza rispetto ordine e ancora è la quarta volta che lo dici nel giro di 5 minuti di film c'è anche un po' rotto il cazzo Miss Peregrine di Temu ma prima di andare via tutti sentono questa melodia celestiale vanno in questa stanza dove c'è il pianoforte con questa luce che cade di taglio su questa figura che sta suonando e facciamo la conoscenza della digievoluzione in peggio di Durello questo è un super Durello ragazzi è Rigel ok che ha il nome che sembra uno di quei gel di sottomarca che ti mettevi per fare l'effetto bagnato e che poi vent'anni dopo hanno iniziato a caderti i capelli Rigel che amichevolmente chiameremo Rigel the killer perché il comportamento è grossomodo accomunabile a quello di Hannibal Lecter solo che con lui potevi fare anche discorsi colti Rigel invece si limita a dire per tutto il film che lui è il lupo della storia nel caso in cui non l'aveste capito lui ve lo ripeterà ancora e ancora e ancora fino che alla diciestesima volta in cui da se stesso del lupo non ti viene voglia di foderarti le tasche di carne di manzo andare allo zoo tuffarti nel recinto dei lupi e lasciare che la natura faccia lo stesso quindi Rigel sta suonando dovrebbe avere la faccia da tenebroso e invece sembra solo un palo perché è interpretato da biondo è interpretato da biondo ragazzi anche se è moro anche se non hai capelli biondi questo ha scelto come nome d'arte perché se non sbaglio è un rapper tipo biondo di sicuro non è un attore cioè sul fatto che non sia un attore credetemi non ho il minimo dubbio Norman e Anna evidentemente si sono accorti che all'orofanotrofio c'è il 2x1 e quindi decidono di adottare anche Rigel insieme a Nick la quale non sembra molto contenta della cosa e Miss Peregrine di Temu ricorda che l'adozione è solo in un periodo di prova poi se fanno i bravi fanno l'adozione a tempo indeterminato ma per il momento li pagheranno solo 500 euro al mese più le spese perché sembra uno stage da come lo descrive io questa cosa l'ho trovata assurda poi magari funziona veramente così però ho notato che nel film ci sono dei riferimenti all'istituzione alla burocrazia e non sono proprio precisissime sono giusto un filo approssimative ma magari sono io che mi sbaglio quindi Rigel e Nika vengono adottati e notiamo che lui inizia a trattarla male la tratta proprio tanto male è uno stronzo clamoroso quest'uomo quando lei si avvicina dice cose del tipo vattene tu non devi stare vicino a me tu vuoi le favole ti piacciono le fiabe Nika beh io sono il lupo di questa storia e i lupi non bisogna avvicinarli ho capito io ero lì che pensavo ma perché questo è così cattivo con lei ma la cosa che mi ha fatto scattare un allarme interiore è il fatto che lei con la voce narrante ci faccia capire che in realtà è molto attratta da questo lupo selvaggio da questo finto bello che bello non è perché comunque lui dovrebbe essere bello tenebroso ma hanno scelto un attore che per quanto abbia anche un volto in sé interessante ha la stessa espressività di certi culi variopinti dei macachi che si vedono nei documentari di Discovery Channel non so se avete presente ecco è quel tipo di espressività lì quando arrivano a casa vediamo che c'è un pianoforte e giustamente Nika chiede se lo suonano loro e invece salta fuori che è il pianoforte di Alan il figlio morto e io per tutto il tempo mi chiedevo va bene ok ma perché hanno adottato due ragazzi che dovrebbero avere 16 anni ma che palesemente sono dei ventenni che hanno già diritto di voto da diverso tempo questo il film ovviamente non ce lo spiega e Rigel si sistema in camera sua e vediamo che prende delle pastiglie vediamo che ha una scatoletta che custodisce gelosamente io ero lì che dicevo ma c'è qualcosa che non mi torna perché poi seguono queste scene di lei che entra in camera per farla gentile e ci sono dei dialoghi ma veramente assurdi nel giro di 10 minuti non esagero dirà per 4 volte che lui è il lupo e che lei deve stare alla larga ma soprattutto la domanda che mi sono posto è ma come cazzo parla biondo ogni volta che parlava la situazione era questa ma recita in aramaico questa persona io non lo so comunque mentre sono a cena Norman e Anna rivelano che lavoro fanno Anna è una fiorista Norman è un disinfestatore di insetti però per motivi che non ci si spiega vivono nella reggia di Caserta vivono in questa casa fantastica che non so ripeto in che paese vivono ma in Italia con gli stipendi che guadagnerebbero delle persone che fanno quei lavori a momenti ti puoi permettere forse un trilocale in periferia ma non importa quindi mentre chiacchierano i genitori adottivi chiedono se loro siano uniti perché comunque erano in orfanotrofio e Rigel dice beh sì noi ci vogliamo molto bene siamo molto uniti la macchina da presa va sotto al tavolo e vediamo Rigel che strizza Annika la coscia e io quando ho visto questa cosa mi sono veramente spaventato perché signore e signori il soprannome Rigel the killer è azzeccatissimo questo si comporta esattamente come mi sarei immaginato si comportasse il mostro di Firenze va bene lei giustamente spaventata ha dei flashback brutti va su in bagno perché è sconvolta perché insomma questo la tocca la provoca lei per qualche motivo è in piena sindrome in Stoccolma dovrebbe odiarlo ma dice di non poter odiarlo perché sotto sotto lui le fa tremare in cuore come nessuno lo chiamano cuore adesso ma comunque questo è il fatto e ricordatevi che che questi hanno tipo 16 anni e le fa discorsi mi trema il cuore questo la tocca sotto al tavolo è una roba terrificante io tra l'altro faccio notare che questa è la trama media dei porno di Pornhub con le stepsis e il stepbro ok è esattamente quella roba lì chissà sa ma tanto so che sapete quindi io ero ero storditissimo da tutto questo ma che cazzo sta succedendo ma qualcuno chiami la polizia aiutatela ma poi i genitori ma non si accorgono di cosa sta succedendo ma non si accorgono che ogni volta che questa sta vicino a lui ha il disagio dentro ma poi si vede che questo è strano non parla mai guarda sempre male tutti sembra Voldemort da giovane nei libri di Harry Potter cioè Voldemort da giovane io me lo immagino così quando era ragazzo che iniziava a creare gli horcrux io lo immagino esattamente così meno scemo però più o meno la situazione me lo immaginavo così mentre sono in bagno Nika dice a Rigel di lasciarla stare ma Rigel dice e se dicessi tutto ai nostri nuovi genitori l'adozione non andrebbe a buon fine e lei continua a ribadire che vorrebbe odiarlo ma non può e allora dice tu sei il fabbricante di lacrime sicuramente entrambi me ne state fabbricando più di quanto io avrei mai pensato di produrne per cui in parte è anche vera questa cosa e il giorno dopo entrambi vanno alla Barnaby High School parlano come se fossero a cento celle ma vanno alla Barnaby High School e quando Nika arriva fa la conoscenza di Billy questa ragazza esuberante che dice che lei ama fotografare i volti alle persone e io mi sono immaginato anche questo piacere sono Nika tu sei? ciao sono Billy mi piace tanto fotografare i volti delle persone e a casa ho un freezer pieno di resti umani insomma in questo posto sono un po' tutti stravaganti lo abbiamo capito e poi arriva anche Jessica l'amica di Billy un po' particolare anche lei e subito vanno a lezione ma succede che questo bullo della scuola tale fel che si chiama come mi pare fosse il nuotatore io l'unico fel che conosco però appunto viene picchiato da Rigel viene picchiato da Rigel ma viene mandato in punizione lui e la cosa divertente è che quando Nika va a casa la madre dice non capisco Rigel è tutto il giorno che non parla non ha neanche voluto c'erare con noi ma è successo qualcosa a scuola certo signora se la scuola se la Barnaby High School avesse un preside o una preside che non sia un ricoglionito o una ricoglionita che magari chiama i genitori delle persone problematiche con la faccia alla scuola killer che vanno in giro a picchiare la gente lo sapresti ma purtroppo credo che una figura autoritaria come quella che sarebbe necessaria in queste occasioni non ci sia alla Barnaby High School e tra l'altro è bellissimo che Nika fin dall'inizio sappiamo avere il nome di una farfalla e quindi nella sua stanza ha la carta da parati come farfalle invece Rigel è il nome di una stella ora se i miei genitori mi avessero chiamato Rigel una volta raggiunta la maggiorità non solo sarei andato all'anagrafe per cambiare il nome ma avrei anche fatto causa per avermi dato un nome così di merda perché è come se io chiamassi mio figlio Alfa Centauri che non è propriamente un attello lo sapete ma insomma questa roba qui è assurda ripeto io non so come sia il libro però so che viene da Wattpad e questa mi sembra proprio una roba da Wattpad tipo la tizia che scrive e dice allora voglio dare un nome poetico al protagonista avviamo un po' nomi di stelle B460A no CX2 Rigel bella Rigel è fantastico ci sembra proprio quella roba lì un po' come la scrittrice di Twilight che ha ambientato tutto a Forks e probabilmente è andata su Google a cercare città dove piove di più in America Forks ambientiamolo lì è proprio una roba da fanfiction mostruosa però che ci devi fare così è e così rimane a quanto pare lei va ancora in camera da Rigel e quante volte stiamo vedendo questa scena lei che va da lui lui che dice no non mi toccare vattene lei va da lui fa per toccarlo e lui dice non ti azzardare a toccarmi con questa casualità ma che cazzo è Jabberwock di Lewis Carroll ma chi li ha scritti i dialoghi ma cosa vuol dire non azzardare a toccarmi con questa casualità ma che si tocca la gente con casualità ma che significa poi dice ancora io sono il lupo di questa storia e siccome la sedicesima volta che lo dice l'avevamo capito e poi dice ancora questa cosa non mi devi toccare lei chiede perché e lui risponde perché non mi fermerò cioè questo è l'equivalente di io scopo forte di Mr. Gray di 50 sfumature di grigio è la stessa identica cazzo di cosa questa è un'altra puntata di Amore Criminale perché lei è affascinata ma anche intimorita da lui fa per toccarlo e lui dice se mi tocchi io poi non mi fermo cioè ti sta avvisando che sta per aggredirti sessualmente io non credo che sia una persona da frequentare questa è evidentemente un ragazzo molto disturbato che non dovrebbe stare in adozione dovrebbe stare in una clinica psichiatrica dove possano magari fornirgli l'aiuto necessario invece no è lì a intimidire la povera Nika che però sembra che voglia farsi intimidire io sono molto confuso lei si mostra spaventata e lui dice ma guardati ti spaventa anche solo la mia voce anche a me biondo anche a me tantissimo non puoi capire quanto mentre sono a scuola arriva quello che credo sia il Jacob di turno solo che invece di essere un lupo è un tizio che sembra un coglione integrale si chiama per l'appunto Lionel e inizia a provarci un po' con Nika la quale casualmente gli toglie una lumaca che aveva sulla spalla ora io potrei capire la forfora no vedi la forfora fai così non è educato con chi lo conosci ma ok hai la merda di gabbiano sulla spalla Lionel oppure Lionel hai un ragnetto oppure ancora guarda Lionel hai una foglia sulla spalla ma una lumaca come cazzo c'è arrivata sulla spalla senza che se ne è accorto cioè io mi accorgo se c'è una lumaca sulla spalla ma poi dove cazzo si è appoggiato ma dove cazzo vanno a scuola questi ma dove le lumaca questo c'è la lumaca sulla spalla lei la toglie e inizia a dire sai se le scheggi il guscio è un casino perché lei si chiude in se stessa ma in realtà è un essere fragile la lumaca tanto la dare stai parlando di te mica l'abbiamo capito ma tu mica eri una farfalla non ti identifichi nella lumaca e arriva Rigel che tipo fa brutto tipo lui dice io sono sta per presentarsi arriva arriva proprio Rigel che dice in mezzo e gli dà tipo una mezza spallata poi va poco più avanti e inizia a appoggiarsi al muro a guardarli male come dito corto in Game of Thrones e io vi giuro non capisco come sia possibile cazzo che nessuno faccia qualcosa nica non riesce a fare a meno di Rigel nica non ce la fa in nessun modo a sottrarsi al gioco di questo pazzo criminale di merda ma gli altri potrebbero fare qualcosa non che le amiche le incoraggiano non che la madre del ottivo dice no ma è un bravo ragazzo non è un bravo ma non lo vedi che che è strano questo ma non strano in senso è un ragazzo un po' chiuso strano nel senso non capisco perché da sotto nella baule del letto di mio figlio esca questo odore di carne putrefatta forse un giorno andrò a controllare cioè capito siamo a questi livelli di di stranezza cioè siamo più dalle parti di Jeffrey Dahmer capite quindi io non mi spiego come nessuno faccia nulla per aiutare la povera Nika Nika poi parla con la madre nel suo negozio di fiori e lei inizia a fare le metafore con le spine le rose dicendo che comunque le rose sono belle anche con le spine rigel non è una rosa è una pianta carnivora di super mario basta cercare di giustificarlo è esattamente come con durello ma poverino lui c'ha i traumi quindi ha i traumi e puoi essere un cazzo di criminale sessuale va bene d'accordo e poi la madre dice sai poi oggi c'è il garden day e Nika dice che cos'è il garden day e la madre subito non sai cos'è il garden day ma è il giorno in cui a scuola si lasciano gli armadietti aperti e i ragazzi regalano rose alle ragazze e poi le ragazze ne devono indovinare chi ha lasciato la rosa il garden day mi ero dimenticato del garden day ma come ho fatto mio dio è il garden day ma come ho potuto è il garden day devo dare una rosa a qualcuno devo dare una rosa a qualcuno la rosa signorina la rosa devo dare una rosa signorina signorina ah Gesù Cristo lo spray in realtà la spiegazione gliela dà poco dopo Billy ma era più efficace così per la gag perché la madre la guarda dicendo ma come fai a non sapere cos'è il garden day è celebrazione nazionale tutti sanno cos'è il garden day una delle idee più stronze mai viste in un film di questo tipo e ce ne vuole quindi vanno a scuola lei trova nella Roma dietto questa rosa nera mentre Billy trova una rosa bianca e ovviamente siccome Rigel è maledetto le ha lasciato una rosa nera allora lei va a casa e dice mi hai lasciato questa rosa e lui no ti spacco la testa che cazzo fai poi la blocca al muro e quasi la aggredisce sessualmente e nessuno dice niente lei riesce a divincolarsi cioè è un film che fino ad almeno metà ma anche di più procede tutto così lei che va da lui lui che la respinge lui che la tocca lui che le mette la mano sulla coscia lui che inizia a respirarle a 12 millimetri dal naso tipo toro tipo con lei che un po' spaventata un po' eccitata insomma è tutto così e il mio cervello sta iniziando a liquefarsi a un certo punto ho soffiato il naso e ho notato che avevo tutta questa questa chiazza di materia grigia morta nel fazzoletto per cui diciamo che arrivato a questo punto stavo patendo tantissimo perché non solo le poche cose che stavano succedendo erano delle merda incredibili ma in realtà erano anche poca roba cioè di fatto questa non è una trama io vi sto descrivendo delle cose ma fin qui non c'è una vera e propria trama poi vanno a comprare un vestito per Nika Nika va a provarselo ovviamente Rigel da lontano è sempre lì che la fissa come dire ah io sono il lupo tu sei un manzo io tra poco ti ammazzo va a provare il vestito e sente una mano che la tocca e io ho pensato ma non è possibile cioè questo si è introdotto in camerino per accarezzarla ma che problemi ha la gente cioè non è normale questa cosa c'è qualcosa che non va cazzarola maledetta non si può a Cristo ma Durallo in confronto sembrava un boy scout e arriva poi la madre perché lei si gira non c'è nessuno che la toccata le mette questa cintura ma mentre la cinge le scatena un attacco di panico perché lei ha il flashback di quando all'orfanotrofio Miss Peregrin di Temu la maltrattava così come tutti gli altri e la portava nello scantinato e la legava e l'unica che le toccava la mano per non farla spaventare era Adeline o meglio lei credeva fosse Adeline io quando ho visto questa cosa ho detto ok adesso salta fuori che in realtà è sempre stato Rigel che vediamo che era un po' protettivo nei confronti di di Nika solo che lei non lo sapeva e non se ne accorgeva perché ad esempio quando il primo giorno Miss Peregrin di Temu aveva detto di prendere la collana lui l'aveva presa ma l'aveva conservata infatti c'era una scatoletta di sto cazzo che lui maneggia sempre con cura oppure ancora stava per essere punita Nika lui si fa un taglio sapendo che Miss Peregrin di Temu lo vedeva come un figlio in maniera morbosa e quindi la distrae dalla disobbedienza di di Nika che consisteva nel voler prendere il sale dal tavolo di Rigel e se prendi il sale sono cazzito e figuratevi cosa fanno se provi a prendere l'olio o il pepe minchia lì veramente casino totale quando tornano a casa suona il campanello ed è Lionel perché Nika aveva lasciato un libro a scuola c'era solo l'indirizzo e allora riportiamoglielo in questo paese sono tutti serial killer o stalker a quanto pare vanno a fare un giro tornano sotto la pioggia e quando Lionel prova a baciarla lei lo respinge e torna dentro e litiga con Rigel perché evidentemente è geloso e poco dopo Lionel la chiama tutto spaccato di botte in videochiamate e dice guarda cosa ha fatto il tuo ragazzo cioè questa cosa è malata ma quello dovrebbe essere il tuo fratello tipo cioè tipo non fratello di sangue ma comunque come il tuo fratello ma spaccato di botte perché è geloso lei vede Rigel che sta rientrando e lo trova tutto febbricitante ho pensato minchia ma due gocce di pioggia sei già malato ma evidentemente lui prende queste pastiglie perché ha qualche problema più di uno in realtà lo sappiamo quindi succede che i due iniziano a pastrugnarsi cioè lui ha abbandonato ogni finzione ormai ormai non non può più fingere no e io ero lì che dicevo ma cioè non è una cosa normale questa cioè però non fanno sesso perché mentre i genitori stanno tornando Rigel si sveglia e inizia capito sta per per farsela perché la sera prima lui voleva voleva poi si addormenta però è l'unica persona l'unico maschio che superati i 37,2 gradi celsius corporei non si sente morto io quando ho 37,1 sono già nel mondo delle tenebre lui no lui era lì Arzillo che sta per scopare poi però i suoi geni maschili che non reggono alla più semplice influenza intervengono e lo fanno svenire però la mattina aveva il barbagallo sull'attenti quindi diciamo che stanno per scopare ma arrivano i genitori anzi più i genitori si avvicinano più lui vorrebbe scoparsela capito c'è questa roba e vi ricordo che stiamo parlando di io mi vergogno perché stiamo parlando di sedicenni gli attori non lo sono ma i personaggi sì cristo santo ma la cosa bella è che prima che arrivasse Lionel lei osserva Rigel che cattura questa farfalla e la fa andare via che è una metafora di lui che in realtà non vuole del male a lei perché c'è qualcosa sotto e per l'appunto c'è lei che con la voce narrante dice una voce mi diceva che lo stavo fissando troppo ma la voce che ti dice scappa nica quello è pazzo scappa non ce l'hai comunque mentre Rigel è febricitante dai flashback scopriamo proprio quello che ho detto prima cioè che lui in realtà era innamorato di lei ma per qualche motivo non voleva dirlo ha conservato la collana e bla 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 e Adeline è l'unica a sapere di questa cosa e intanto c'è Lionel che continua a intromettersi e dice è successo qualcosa quella notte sì Lionel però non è accaduto non è accaduto quindi andiamo avanti ancora così perché Lionel vuole stare con nica nica non vuole Lionel e anzi pensa a comprare un regalo di compleanno per Rigel che era un globo di cristallo che Lionel però inavvertitamente le fa rompere e lei dice oh era l'unico regalo che avesse senso perché rappresenta la stella che lui è e che può brillare sì una stella in rotta di collisione con un pianeta perché questo è Rigel se è una stella è una cometa che sta per distruggere un mondo intero tra l'altro poco prima nica è a casa di billy con jessica e mentre billy è addormentata jessica le confessa che la rosa bianca nell'armadietto a billy gliela ha messa a lei perché lei è innamorata di billy allora nica va in bagno e jessica si alza va da billy che si è addormentata sul letto e la bacia io a questo punto credo che questa sia una città prigione per criminali sessuali li hanno messi tutti lì perché allora uno è un cazzo di serial killer che prima tratta male nica poi cerca di pastrugnarla e le mette paura e io sono il lupo e guarda che ti azzanno e guarda cosa ti faccio e poi quando c'è la febbre subito ravana giù nelle mutande poi c'è quell'altro lionel che è uno stalk e guarda ho trovato il tuo indirizzo e casualmente ero vi stando nella tua spazzatura spero non ti dispiace c'è capito non è normale questa cosa poi arriva questa che bacia la tizia che le piace nel sonno ma è normale questa cosa qui non che non è normale Cristo e quindi si prosegue così fino a che non arriva il momento del complame c'è c'è questa famiglia che sono amici di famiglia con questa tizia tale Asia che a un certo punto accusa i genitori adottivi di Nika e di Rijel che dicono che l'adozione è confermata che hanno sostituito Alan il figlio morto che era il suo ragazzo lui non c'è più voi lo state sostituendo pezzi di merda e se ne va con i genitori di lei che non fanno niente per fermarla se io avessi fatto un pezzo del genere ad una cena con degli amici di famiglia mia madre si sarebbe alzata tranquillamente avrebbe preso un ciocco di legno con calma avrebbe preso un coltello avrebbe iniziato a intagliarlo avrebbe costruito avrebbe scolpito un fantastico zoccolo olandese e me l'avrebbe lanciato qui io dovrei andare in giro con un naso di gomma se avessi fatto una cosa del genere ma ovviamente siamo in un mondo indefinito di stampo americano non lo so è una cosa proprio da film americano cose del tipo lascia la cara le passerà no non le passerà se non le dici testa di cazzo chiedi subito scusa maleducata di merda come se loro si divertissero ad avere figlio morto testa di cazzo ma invece no la lasciano andare e io ho pensato ma questo personaggio che costruzione avrà nel film la risposta è nessuna esatto tra l'altro Asia possibilmente è l'attrice che si capisce di meno quando parla è palesemente la figlia avuta da te a falco e da un logopedista che ha abbandonato gli studi una cosa del genere io vi giuro mentre la sentivo dicevo ma questa che cazzo sta dicendo ma un po' biascicano o hanno una recitazione orribile perché la recitazione di questo film vabbè l'ho detto anche prima ma è veramente terrificante recitano tutti nella maniera peggiore che si possa pensare e non sto scherzando se guardate una puntata di Un Posto al Sole recitano meglio perché lì sono attori bravi che sono costretti a fare la merda qui sono attori di merda che sono stati messi a fare un film di merda e quindi la combo è un po' letale capite Nika nel frattempo ha la possibilità di stare un po' con Adeline che ha dei permessi per uscire da quello che loro chiamano il grave perché è come se fosse una tomba per l'anima per loro l'orfanotrofio lo chiamano il grave e Adeline le dice guarda io sai ti devo dire che stiamo cercando di fare causa a Miss Peregrine di Temu perché ci ha distrutti ci ha spezzati ma noi dobbiamo fare qualcosa ma Nika ha troppa paura e dai flashback capiamo che effettivamente Rigel era colui che le teneva la mano quando lei era legata al letto che non poteva neanche girarsi per vedere chi le stesse tenendo la mano per cui è così poi lei va da Rigel che è al pianoforte e dice ti volevo fare un legale regalo purtroppo mi si è rotto però cosa posso fare per te qualunque cosa quando dice qualunque cosa io ho pensato no cioè ma Cristo ma no ma come qualunque cosa ma cosa stai facendo e lui risponde nella maniera più equilibrata che si potrebbe pensare e se ti dicesse di stare ferma immaginate questa frase detta mentre accarezza un'accetta l'accetta non c'è ma io mentalmente sono sicuro che ci fosse nella sua testa anzi l'accetta è qui nel senso che lei sta ferma in mobile e lui inizia a carezzarla e io ero lì che dicevo ma perché questa tensione sessuale non ce la spiegano sono un'ora di film che andiamo avanti con lui che fa così lei che fa in quel modo cosa succede ma suona il campanello e lei dice oh torno eh torno ferma torno guarda sto calda come una stufa torno eh va alla porta ed è ancora Lionel che da una scena di poco prima apprendiamo che è un mese che la tampina cioè un po' troppo figliolo e lui dice io non riesco più a mangiare e io ti voglio e non è possibile ecco io inizio a pensare che questo forse è peggio di Rigel tra l'altro Rigel alla luce delle recenti rivelazioni in teoria è il buono della storia in un modo malato e contorto allora io ho iniziato a chiedermi ma quindi perché si comporta così cioè perché Rigel se è così bravo e ci tiene così tanto a Nika effettivamente si comporta come un pazzo squilibrato poi è arrivato Lionel che forse è più pazzo squilibrato di Rigel non sto capendo più un cazzo dove cazzo sono andati a vivere questi per caso è Derry e c'è Heath dietro a tutto questo è una sua manifestazione che cazzo sta succedendo tra l'altro Lionel li ha interrotti che era comunque tardi era notte per cui Lionel è andato a suonare di notte perché non ce la fa stare lontano a una Nika con Queen non ha mai avuto niente neanche mezzo bacetto non ha avuto neanche una frequentazione che si è interrotta zero cioè quindi già in quelle situazioni è follia pura un comportamento del genere così è ancora più folle e inquietante lei rientra perché lui lo respinge e va da Rigeli il quale no 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 tu non puoi stare con me no 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 mi dispiace mi dispiace lei dice no io non vado da nessuna parte lui ok e inizia a baciare la pancia e poi dice no 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 non possiamo non si può fare vieni qui la lavana io ho detto ma questi 16 anni ma perché vi fate vedere sta roba ma che schizzo no cazzo è terribile è orribile cioè capite che capite che il discorso è io ho capito che è una roba per ragazzine però fateli anche anche a tipo 18 anni ma 16 anni farmi andare in come posso dire farmi un film dove questi fanno ste cose e hanno 16 anni per me non è normale capite non è affatto normale cosa succede succede che iniziano le frasi quelle che diventano poi le frasi che le ragazzine scrivono sul diario no cioè tipo non lo so lui a un certo punto dice dica noi siamo rotti sì ma mai quanto i miei coglioni in questo momento e poi lei dice quella che forse è la frase che più mi ha fatto venire punti di domanda in testa io Stella lui cielo lui graffi io cerotti voi martello io coglioni perché non si può andare avanti in questo modo non si può virgola cazzo quindi si interrompono ancora poi il giorno dopo sembra che Rigel abbia fatto i bagagli e debba parlare a Anna la madre adottiva nel frattempo Billy va a preparare squadre Billy Nika va a prepararsi da Billy e Jessica per questa festa che non ho capito se è in costumo o no ma tra poco vi dico che sarà a scuola e Billy dice che ha scoperto che a darle le rose è stato Phelps e allora Jessica dice no non è stato Phelps mi dispiace ma sono stata io perché sono innamorata di te e Billy inizia a incazzarsi tra l'altro questa sottotrama non va da nessuna parte perché da qui alla fine del film non ci sarà una vera riappacificazione tra Billy e Jessica non c'è qualcosa di visibile cioè è una sottotrama che ha letteralmente tre scene e che non serve ad un cazzo come tutto il resto delle scene di questo abominio di merda vanno per l'appunto a scuola sono lì che ballano e arriva Lionel vestito cioè truccato come il corvo con un misto tra il corvo e il Joker come se già non fosse inquietante e va da Nika e dice scusa che ho una cotta per te non la sto gestendo bene sì ci sono delle figure deputate ad aiutare le persone per questo si chiamano psicologi o psichiatri a seconda della gravità della situazione ma siccome Nika non sembra considerare pericoloso Lionel iniziano a ballare anche se lui è stato uno stalk fino a 30 secondi prima lei è un po' ubriaca un po' brilla e dice ah mi gira la testa non sono abituata e lui dice dai vieni ti porti in un posto e fa questa faccia alla telecamera dove cazzo abitano questi ma possibile che non ce ne sia uno che non è che uno normale ma sono tutti dei predatori sessuali ma è allucinante questa cosa io sono terrorizzato all'idea io non so non so come cazzo sia possibile che abbiano partorito una cosa del genere ma a quanto pare lo è a quanto pare è effettivamente possibile quindi lei viene portata in quest'aula dove lui proietta la via Lattea e nel frattempo vediamo che Rijel se ne sta andando via con lo zaino in spalla ma poi si gira e va alla festa e trova Nika che sta venendo cioè sta per essere non è ancora stata sta per essere violentata da Lionel perché prima lui prova a baciarla lei lo respinge dice dai andiamo di là mi sento meglio e fa no no adesso no e santo cielo la sta proprio per stuprare Rijel riesce a spaccare di botte Lionel il quale vi giuro se ne va urlando non finisse qui questa signori è l'origine di un super villain ma che cazzo di personaggio è i due si baciano scopano proprio nella stanza come se lei non avesse subito un tentativo di stupro letteralmente 30 secondi prima per carità del cielo ognuno reagisce alle cose come può però a me sembra irrispettoso mettere una scena dove c'è una ragazza che ha subito una tentata violenza sessuale un secondo dopo è lì che tromba col belloccio di turno cioè per me è una visione distorta del mondo e della vita pericolosa cioè qui andiamo oltre after qui siamo oltre alla porcheria che piace di solito le ragazzine questa è una roba diseducativa non so se questa roba c'è nel libro poi vanno sul ponte a camminare per tornare a casa e Lionel vada in macchina vada loro e dice oela io vado a dire tutto a tutti perché voi dovreste essere fratello e sorella che è sta roba da step si step bro poi si mette in macchina tentano di investire loro si buttano nel ponte Nika sopravvive Rigel finisce in coma e qui arriva una mitragliata di rivelazione che ho pensato ma sta povera Nika datene un colpo diremo qua su C5 fatelo perché si sveglia e scopre che Rigel è in coma che ha una patologia neuronale che non è mai stata operata ed è per quello che prendeva le pastiglie che lui l'ha sempre protetta e che era lui tenerle la mano e lo capisce perché mentre si buttavano e finiscono in acqua ha sentito la sua stretta di mano ed era la stessa che sentiva quando stava male e in più è tornata a Miss Pergrinditemu che ha ripreso l'affido di Rigel il quale il giorno prima aveva deciso di interrompere l'adozione perché voleva andarsene da Nika ora Adeline che è al capezzale di Nika sta per dire come mai Rige non ha voluto dire nulla ma non lo dice e da lì alla fine del film non capiamo il perché ti cercano di far capire forse che è perché lui era malato e quindi non voleva che Nika si innamorasse di lui perché temeva di morire anche se poi si scopre che basta una semplice operazione perché è spezzato perché è rotto non si capisce sta di fatto che Miss Pergrinditemu non vuole che Nika si avvicini a Rige e allora l'unico modo è che il film si trasformi in un thriller processuale l'ultima parte c'è il processo nel tribunale più approssimativo d'Europa evidentemente dove le persone possono entrare e uscire perché c'è Nika che viene tartassata dall'avvocato l'avvocato che dice lei è innamorata del signor Wild perché Rige si chiama Wild perché è pazzo capito e io dico ma no ovviazione vostro onore respinta ma come respinta ma cosa c'entra e quindi devono provare che Miss Pergrinditemu è una stronza e Nika però ha l'attacco di panico e se ne va dall'aula come se fosse una sala ricevimenti no puoi entrare puoi uscire ma chi se ne frega nessuno che la ferma nessuno che dice De Ciccia siamo in un tribunale che cazzo stai facendo poi Peter uno dei bambini del Grave che poi è cresciuto quindi all'età di Nika aveva insistito per aprire il processo quando arriva il momento di testimoniare dicono lei ha subito abusi da Miss Pergrinditemu lui no ma nella sua dichiarazione c'è scritto ci mettevano ci legavano ci picchiavano ci legavano in cantina eh ma mi sono sbagliato ma come mi sono sbagliato ma che vuol dire mi sono cioè perdonami tu hai detto di essere stato abusato e picchiato quando ti chiedono ma perché stai ritrattando eh ma mi sono sbagliato è ovvio che hai paura e che effettivamente non vuoi testimoniare perché non riesci a affrontare la cosa ci può anche stare lo capisco ma che cazzo di scusa è mi sono sbagliato ma inventatene un'altra cazzo e invece no non se ne inventa un'altra al che Nika va quindi in bagno sa quasi la faccia arriva Anna che dice no tu ce la puoi fare tu sei forte torna in aula fa questo super discorso straparate dicendo noi chiamiamo il posto il grave perché è la tomba dell'anima questa ci ha distrutti sta merda sta stronzo ovviamente in altri termini ma il succo è quello tutti si mettono ad applaudire con Miss Peregrine di Temo che si accorge che le cose non stanno andando bene lei cosa fa? scappa di nuovo per andare da Rijel la cosa divertente è che quando va da Rijel è ancora in come dice abbiamo vinto no non hai vinto non hai vinto tu eri in aula hai fatto un discorso che ha colpito la gente ha applaudito però poi la giustizia fa il suo corso in maniera che si distacca dalla reazione emotiva che i presenti possono avere non è che hai vinto è che sei scappata dall'aula prima che potessero dirti se avete vinto oppure no magari Miss Peregrine di Temo viene assolta noi che cazzo ne sappiamo anche perché Rijel si sveglia e da lì fine del film con un brevissimo flash forward con la voce narrante di lei che dice abbiamo superato tutto ce l'abbiamo fatta i fabbricanti lacrime e cazzate e vediamo loro due da adulti da grandi sul letto abbracciati con una bambina che sono diventati una famiglia e questo abominio di film su questo abominio di film cala il sipario cosa posso dire di fabbricante di lacrime che è uno dei film peggiori che ho visto è terrificante i dialoghi non hanno senso la recitazione è orribile parlano in italiano ma sono in un ambiente tipo statunitense è una delle cose più brutte che abbiamo visto è una delle cose più assurde che mi sia capitato di vedere con minorenni che fanno cose inqualificabili criminali a piede libero che non vengono minimamente puniti perché ad esempio Lionel non si sa che fine fa cioè Lionel è ancora a piede libero dopo aver cercato di stuprare lei e di investire sia lei che Rigel cioè questo è stupratore assassino ed è a piede libero fa sembrare Rigel un buon somaritano che poi alla fine Rigel non è cattivo e allora ma se non sei cattivo che è sta cosa del lupo della storia cioè perché lei è così e lei dice alla fine perché Miss Peregrin di Temu lo ha convinto che lui era il lupo sì ma in che modo cioè lei lo trattava in maniera morbosa ma appunto non gli ha mai detto tu sei cattivo no non credo è questo il fatto lei lo vedeva come un figlio aveva delle attenzioni speciali per lui è una cosa anche molto inquietante quindi teoricamente non dovrebbe averlo fatto sentire un lupo cioè lo ha hanno spiegato male questa cosa non si capisce perché Rigel si è comportato così forse si capisce di più nel libro ma nel film non è che sia proprio così chiaro sta di fatto che i miei coglioni si sono sgonfiati di due o tre atmosfere ma il film è concluso e non ne parleremo mai più io credo che sia tutto autoconclusivo non penso che faranno qualcosa dopo spero di no perché se fanno un fabbricante di lacrime 2 il mio cuore sanguina capisco che sta andando bene non capisco il perché ecco quello no ok che sta andando bene ma non capisco il perché però nonostante questo spero non cerchino di tirarla per le lunghe io ragazzi è da tanto che non facevo una recensione incazzata che mi prosciugasse così tanto di ogni mia energia ma verrà in una maniera allucinante quindi questo è quello che pensavo del fabbricante di lacrime regia mediocrissima fotografia orrenda le musiche ci sono queste musiche di tale Valentina Costanzo può essere sia quelle che altre ma sono sempre fuori luogo usate proprio come in after come in 50 sfumature a caso nelle scene di mezzo sesso vabbè per fortuna non ci sono mai scene di sesso complete a parte quella quella accennata di quando loro poi vanno sul ponte e meno male che hanno tagliato perché io mi sentivo a disagio a vedere quella cosa lì però è un film che va avanti con loro che si piacciono e si odiano si odiano e si piacciono è personaggi che fanno cose terribili e nessuno li ferma insomma un cazzo di delirio per me questa è la rappresentazione perfetta dell'inferno io vi giuro che spero di non dover mai essere costretto per nessun motivo al mondo a riguardare questa porcheria immonda di film porco giuda quindi questo è quanto fatemi sapere in un commento qui sotto cosa pensate voi di fabbricante di lacrime io vi abbraccio vi ringrazio grazie non so quanto durerà ma io sono un'ora in quarto di girato perché col montato sarà di meno ma verrà parecchio lunga e noi ci vediamo al prossimo movie vlog ciao a tutti